Domani sarà il giorno della prima e ancora dunque è possibile acquistare gli abbonamenti allo speciale prezzo di 45 euro per assicurarsi un posto in sala ad assistere ai film scelti dal Cinecirco La Ciclèb presieduto da Salvatore Pittera per la stagione 2012-2013. Il Multisala Margherita di Via Cavour dunque è pronto ad aprire le proprie porte agli associati a cui sarà proposto per il mese di dicembre il tema a scuola di emozioni e per questo argomento tra le pellicole Mossi Lazzar, Ciliegine di Laura Morante e Il Rosso e Il Blu con cui si comincia proprio domani giovedì 6 dicembre. Come di consueto due saranno le proiezioni ogni giovedì alle 17.30 e alle 20.45, 15 le serate con film selezionati con cura e che come solito lasceranno un segno e possibilità di riflessione ma anche e soprattutto di sano svalgo in una città che offre poco per non dire nulla sotto tutti i punti di vista, una serata al cinema a metà settimana e appuntamento imperdibile.